Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Giovanni. Questa è la testimonianza di Giovanni quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme i sacerdoti e le viti a interrogarlo. Tu chi sei? Egli confessò e non negò, confessò, io non sono il Cristo. Allora gli chiesero, chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora, chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose, io sono voce di uno che grida nel deserto. Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Esaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero, perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro, io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Parola del Signore. Sialo dato Gesù Cristo. Sialo dato Gesù Cristo. Abbiamo appena ascoltato questo capitolo secondo, tratto dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Un testo sicuramente affascinante, dove c'è un verbo che in Giovanni è molto presente. Ricorderete tutti il capitolo quindicesimo del suo Vangelo, molto famoso questo testo. E in questa lettera ritorna ancora questo verbo. Là sembra un secondo decalogo perché ritorna dieci volte, quando parla della vite. E qui ritorna anche chi con una grande frequenza. Rimanere, rimanete, rimanete in Lui, perché possiamo avere fiducia quando Egli si manifesterà e non veniamo da Lui svergognati alla Sua venuta. Noi abbiamo bisogno di rimanere in Gesù. Rimanete in Lui come Essa vi ha istruito. L'unzione, sta parlando dell'unzione. Quello che avete udito da principio rimanga in voi. Se rimane in voi, vedete come ritorna costantemente questo rimanere. Oggi è il primo giovedì del mese, abbiamo detto l'inizio della Messa. E tutti sappiamo ormai da tempo come alla Beata Aleksandrina Maria da Costa Gesù chiese tantissime volte, spiegandone i motivi ampiamente, di consacrare il primo giovedì del mese e in generale ogni giovedì a questa memoria dell'istituzione dell'Eucarestia, a questo rimando alla devozione verso l'Eucarestia, allo stare davanti al tabernacolo, a rimanere in Lui. Cosa vuol dire questo rimanere in Lui? Abbiamo bisogno di far nascere in noi, di alimentare in noi un cuore eucaristico, un cuore generoso, un cuore animato da buona volontà, un cuore che sappia intrattenersi, sappia rimanere in Gesù, un'anima che sappia vivere dell'amore eucaristico di Gesù, quell'amore che l'ha spinto a darsi a noi per sempre, per rimanere con noi sempre, quell'amore che gli ha fatto oltrepassare la morte, i confini del tempo e dello spazio, quell'amore che l'ha costretto a superare ogni tradimento. E per questo siamo chiamati a imparare a consolarlo, a consolarlo attraverso la nostra presenza. Questo ci chiede, questo chiede ai santi, a tanti santi chiede questo, con la nostra presenza davanti al tabernacolo, imparare a essere generosi in questa presenza, perché l'amore, e questo lo sappiamo bene, filosofi, poeti, santi, hanno scritto fiumi di inchiostro su questo. L'amore non sopporta interruzioni. Se ami, ami sempre. Capite perché il peccato, non l'imperfezione, non la debolezza, non l'errore, che sono cose diverse, non lo sbaglio, queste sono altre cose, ma il peccato, capite perché il peccato è una cosa seria, perché il peccato rappresenta esattamente una interruzione all'amore. Il peccato rappresenta un impedimento all'amore, non è un atto umano, scriveva Papa Benedetto XVI, non è un atto umano, è un atto disumano, perché non corrisponde al progetto che Dio ha su di noi, non c'è niente di umano nel peccato, anche nel più piccolo peccato. Se l'amore non sopporta interruzione e il Signore si aspetta che i nostri cuori palpitino senza interruzione per Lui, noi dobbiamo far di tutto, perché tutta la nostra giornata, compreso il sonno, il mangiare, tutto, tutto sia un atto di amore ininterrotto verso Gesù e Eucaristia, perché non abbiamo niente di più, capite, l'Eucaristia è il cuore della Chiesa, noi non abbiamo una presenza vera, reale, sostanziale, più vera, più reale, sostanziale di Gesù nell'Eucaristia. Non l'abbiamo, non esiste nella Chiesa, quello è il vertice, è il mirabile sacramento, non c'è niente di più di questo e Gesù l'ha istituito per questo, per stare con noi, per darsi a noi. E allora dobbiamo sviluppare un amore tenero verso Gesù, esattamente come si amano i familiari più intimi, i quali si cercano per condividere gioia e pene, per stare in compagnia, per godere della loro compagnia, per fare casa. Noi dobbiamo fare casa con Gesù, abituarci ad avere Gesù per casa, abituarci ad avere Gesù come una presenza familiare, ordinaria, costante, intima, voluta, cercata, desiderata, sperata, amata, difesa. E allora impariamo a fare ogni giorno un'ora santa, non solo il giovedì, ogni giorno, come diceva il venerabile Monsignor Fulton Sheen, che lui, il giorno della sua ordinazione presbiterale, fece un voto. da oggi io farò un'ora santa davanti al tabernacolo tutti i giorni fino alla morte. Per 55 anni lui rimase fedele a questo proposito. E quando, siccome lui, io l'ho già detto, era un grandissimo predicatore, predicava in televisione, prima iniziato con la radio, poi con la televisione, lui predicava benissimo, tantissimo, ha scritto dei libri bellissimi, aveva una fluidità di parola incredibile, tu la ascoltavi, rimanevi incantato per ore. Quando lui parlava era una cosa meravigliosa, no? E allora qualcuno, dopo un po', quando è entrato il vescovo, qualcuno andò e gli disse ma eccellenza, proprio gli disse così, ma eccellenza, ma il suo potere dove risiede? Perché, capite, la parola è un potere, eh? Attenzione, dietro la parola c'è stato un potere immenso. Quando uno sa parlare e parla bene, possiede un potere incredibile, perché attraverso la parola tu raggiungi gli orecchi, il cuore di chiunque e, se è una parola buona, santa, eserciti un potere benefico sulle persone incredibile. Quindi gli chiesero, ma eccellenza, il suo potere dove risiede? E lui rispose così, il mio potere risiede nell'ora passata davanti al tabernacolo, il mio potere risiede nel tempo dedicato Gesù Eucaristia. È lì che io preparo tutto quello che devo dire, tutto quello che devo essere. E infatti lui morì davanti al tabernacolo. Lui morì durante un'adorazione eucaristica. È un dono immenso, no? Morire davanti al tabernacolo, morire in chiesa, morire davanti Gesù Eucaristia. Bellissimo. Chiudi gli occhi con Gesù Eucaristia davanti, apri gli occhi a Gesù in cielo. Una grazia che ebbe San Galdino che morì mentre predicava, che chiese il beato Cardinal Schuster, ma il Signore non gliela concesse. Una grazia incredibile. E allora impariamo ogni giorno anche noi a fare questa ora santa, questo tempo dedicato al Signore in intimo colloquio. questo essere visitatori di Gesù, questo essere pellegrini dei tabernacoli per stare con Lui. Non dobbiamo mai stare davanti al Signore con un cuore freddo, con un cuore che non palpiti d'amore per Lui. Non dobbiamo essere paralizzati dall'apatia, dall'indifferenza verso Gesù sacramentato. Non dobbiamo essere distratti quando siamo davanti a Gesù sacramentato. dobbiamo essere spinti da un amore forte, da sussulti, da singulti d'amore. Quindi dobbiamo prepararci la comunione, dobbiamo ringraziare dopo la comunione. Perché Gesù è sempre a nostra disposizione, pronto ad ascoltare e a parlare al nostro cuore come fa il migliore degli amici, senza alcun timore nostro verso di Lui. perché è l'unico che sa darci pace e riposo. E quindi allora in questo primo giovedì del mese e dell'anno cerchiamo di impostare magari anche noi questo bel proposito ogni giorno un'ora davanti al tabernacolo, ogni giorno un'ora davanti a Gesù e Caristia, ogni giorno un'ora per andare a trovare il Signore e stare con Lui. Voi direte ma cosa serve? Ma io non ve lo dico cosa serve, io vi dico, come diceva Santa Teresa, fate la prova per tre mesi, tre mesi, per tre mesi, ogni giorno un'ora davanti al tabernacolo e poi mi direte se al termine di quei tre mesi voi siete la stessa persona di tre mesi fa e poi mi direte se al termine di quei tre mesi la vostra vita non è già cominciata a cambiare radicalmente. Questo è il primo miracolo eucaristico. Siero dato Gesù Cristo.